La neve oltre a regalare splendidi scenari può provocare anche diversi disagi ed è quello che è successo ieri alla presidente dell'ente carnevalesca di Fano, Maria Flora Gianmarioli, che al ritorno da Roma per accompagnare il marito a Fiumicino per lavoro è rimasta bloccata nella strada della Contessa a causa della forte nevicata in atto. E tornavo da Roma e non ho pensato scioccamente di fare un'altra strada, da anni faccio sempre la Contessa e ho preso la Contessa e purtroppo sono rimasta ferma con la macchina. Ovviamente non ero solo io, eravamo tante macchine ferme e devo dire grazie ai carabinieri e ai vigili del fuoco di Gubbio che sono stati gentilissimi, ci hanno aiutato tutti, a me in particolare perché poi mi hanno aiutato, hanno ganciato la macchina e mi hanno aiutato a mettere in un punto dove non dava fastidio, la macchina è rimasta lì. Domani l'andrò a riprendere perché ancora oggi le temperature non sono idonee per spostare la macchina, però è stata un'avventura ma niente di grave, ripeto, sciocca io che non ho fatto un'altra strada ma l'abitudine. Per fortuna sono ripartita la mattina, quindi verso le dieci e mezza sono ripartita da Fiumicino e contate che sono rientrata a casa alle otto di sera, quindi insomma è stato un viaggio lungo. E poi ecco, dopo un paio d'ore sono arrivata al passo della Contessa, poi sono stata ovviamente accolta gentilmente da un bar, ho fatto varie telefonate perché lì tra l'altro non prende neanche il telefono, quindi sei proprio isolato dal mondo. Quindi mi sono fatto una camminata fino al primo bar e lì ho cercato insomma aiuto, devo dire anche grazie a Daniele Carboni e sua moglie che mi sono venuti a recuperare. Però insomma ecco, i vigili del fuoco veramente sono stati gentilissimi che mi hanno aiutato a spostare la macchina e poi mi hanno portato alla fine della Contessa verso direzione Fano e lì poi Daniele mi ha recuperato.